Mr. Antonello Conradino, responsabile tecnico dei Sanniti, questa scuola calcio, anche voi in Basso Molise per rispondere all'appello della famiglia Bellomo per questo quadrangolare, una sgambatura amichevole per divertirsi, per stare insieme, per socializzare, ma soprattutto avete sfidato anche il tempo perché in campo quasi di notte. Sì, è chiaro che abbiamo raccolto subito l'invito di Bellomo e della sua famiglia perché quando ci sono alla base di tutti questi valori, quello del divertimento, dello stare insieme, dell'allegria, soprattutto per quanto riguarda i bambini, è la prima cosa da fare, quindi ringraziamo chiaramente San Giacomo e la famiglia Bellomo per l'ospitalità e per noi è stato un piacere essere venuti qui. Un momento anche per confrontarsi, ma per divertirsi fra tutti questi ragazzi, è arrivata anche una squadra di fuori regione, quindi un momento importante per stare insieme. Sì, abbiamo approfittato di queste giornate estive che ormai stanno finendo, proprio per stare insieme, stare all'aperto, i bambini si stanno divertendo tantissimo, poi comunque giocare sull'erba naturale è tutta un'altra cosa. Insomma, i bambini, ripeto, per loro che hanno bisogno sempre di stare all'aperto e purtroppo nella società di oggi si tende sempre a stare al chiuso, quindi sono occasioni chiaramente da sfruttare al massimo. Poi il tempo è anche mite. Questi sanniti crescono, questi ragazzi crescono, ma anche la tua società cresce tanto. Sì, sì, diciamo che siamo nati da 4-5 anni, però abbiamo ottenuto risultati grandissimi, insomma, questo grazie all'aiuto di tutti i collaboratori miei della società e chiaramente grazie all'apporto delle nostre famiglie. Antonio Conradino ha deciso di lasciare col calcio importante e ti vuoi dedicare solo a questi ragazzi, vuoi divertirti con loro? Sì, quest'anno preferisco dedicarmi alla mia scuola calcio, insomma, perché i bambini sono cresciuti tanto e se non li segui io credo che prima o poi perdi qualcosina, sia a livello di organizzazione che di qualità. Poi sono entrato a far parte del Genova, quindi credo che non avrei tantissimo tempo a disposizione, preferisco dedicarmi alla mia scuola calcio.